Hanno applaudito! Siete responsabili anche noi! Assassini! Hanno applaudito! Vergognatevi! Vergognatevi! Avete applaudito! Voi, voi, voi! Voi, voi! Voi, voi, voi! Avete applaudito! Siete morti! Non direte di stare cedicone! Voi siete la morte! Noi siamo la luce, voi siete il puglio, le tenebre! Voi assassini, l'avete ucciso anche prima di quando doveva morire! Lei doveva vivere perché voleva vivere! Non dovesse pregare adesso che c'è morto! Noi abbiamo pregato! Non dovesse pregare! Presto la signora! Si chiama ad affari! Insultiamo! Insultiamo! Stai lì! Sei tu anche un delinquente! Capito? Vergognati! Vergognati! Tu sei il correo! Correo! Ma cosa guardateli! Adesso cosa chiedete che suonano il campone! Ma ce l'abbiamo pregato! E' cortesia! Guarda di via! Guarda! Volete ammazzare anche gli handicappati? Beh, voglietteli! Tutti i massaggi che avete fatto! Chi ha quasi meno massacri vuole uccidere anche quelli! Guardati con gli handicappati! Cominato! Guardate! 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 Guardate!